Nella giornata di ieri l'avvio al dibattito pubblico per la realizzazione del primo tratto del primo lotto dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Un primo tratto che partendo da Battipaglia arriverà a Romagnano. Successivamente si proseguirà con i lotti che toccheranno anche il Vallo di Diano e la realizzazione di una fermata sul territorio. Presso la Sala dei Santis della Regione Campania, alla presenza del Ministro Giovannini e della Commissaria e Amministratrice di RFI Vera Fiorani, oltre al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, è stata presentata l'opera ritenuta da più parti tra le più importanti previste con i fondi del PNRR. La dottoressa Fiorani ha precisato che l'opera rappresenta un corridoio europeo di fondamentale valore per favorire i collegamenti non solo in Italia ma anche con l'Europa. Inoltre è stato rimarcato come l'opera è stata progettata con una lunga serie di valutazioni documentali e seguendo obiettivi ben precisi con caratteristiche rispondenti sia alle necessità legate al trasporto merci che a quello delle persone. Un'opera assolutamente sostenibile. I grafici di presentazione del progetto hanno evidenziato la presenza della stazione dell'alta velocità a buon abitacolo con il tratto che arriverà a Praia Mare, che così come presentata sembrerebbe ormai definita, considerato che la stessa Fiorani ha sostenuto che si stanno già realizzando progetti di fattibilità tecnico-economica anche per i successivi sublotti. Entro quindi il mese di marzo, dichiarato ufficialmente Vera Fiorani, arriveranno i progetti relativi ai successivi sublotti legati al completamento del primo lotto. Pertanto, entro il mese in corso, saranno definiti i progetti per i due tratti che toccheranno il Vallo di Diano, ossia il tratto romagnano fermata intermedia che dai grafici viene riportata a buon abitacolo e il tratto successivo che dalla fermata intermedia porterà Praia Mare. Nel corso di questo primo incontro del dibattito pubblico sul sublotto A del primo lotto, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rimarcando l'importanza del progetto ma soprattutto del confronto democratico, ha ricordato come le attività si svolgeranno in maniera celere ed ha esortato i partecipanti alla concretezza, ricordando in modo perentorio che si decide e si va avanti. Presente al tavolo il Ministro Giovannini, che ha ricordato come l'opera non sarà realizzata solo con fondi del PNRR, ma che il Governo ha già messo a disposizione dell'infrastruttura ritenuta strategica per tutto il territorio nazionale, ulteriori e cospicue risorse finanziarie.